Blizza, Castello di Cisterna, Acerra e Brusciano da parte dei carabinieri della locale compagnia che hanno perquisito diversi stabili nei complessi di edilizia popolare. Nella 219 di Brusciano i militari hanno setacciato le aree comuni degli edifici rastrellando interi palazzi fin sopra i tetti spesso utilizzati dalle vedette. Rimossi ostacoli creati ad hoc con i militari che hanno dovuto fare i conti anche con pitbull probabilmente messi a protezione di locali utili allo spazio ed altre attività illecite. Rimvenuto è sequestrato un vero e proprio arsenale, una pistola Beretta 92F Compact completa di caricatore, una pistola calibro 38 pronta a sparare e 55 cartucce special dello stesso calibro, 5 munizioni calibro 9x21 e 4 cartucce calibro 380. Nel vanno ascensore la scoperta, forse la più pericolosa, di 4 bombe carta ad altissimo potenziale offensivo per le quali è stato necessario l'intervento del nucleo carabinieri artificieri. Armi ma anche droga con il sequestro di quasi 3 kg di hashish suddivisi in panetti e 570 grammi di crack. Contemporaneamente nelle palazzine popolari di Castello di Cisterna i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta calibro 380 con caricatore e diverse dosi di marijuana pronte alla vendita. A finire in manetti un 19enne incensurato del posto soppreso all'interno di un palazzo. Il ragazzo aveva preso una busta con all'interno 30 dosi tra cocaina e crack che era nascosta sotto una mattonera di un gradino della scala condominiale. Nella cisternina invece altra droga e anche in questo caso diverse dosi tra crack e cocaina. Un'operazione durata diverse ore con l'impiego di un centinaio di carabinieri che sempre a Brusciano hanno scovato due depositi con all'interno diverse parti di auto rubate tra sportelli, fanali, impianti di climatizzazione e diverse parti meccaniche ancora in corso di quantificazione. Nell'abitazione di un 43enne di Brusciano i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5.000 euro di dubbia provenienza e tre Rolex sui quali sono in atto accertamenti. Armi, bombe, droga, Rolex ma anche sigarette. Ad acere i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per contrabbando un 36enne di origini marocchine. In un magazzino di via Tufo in uso all'uomo i militari hanno trovato bionde illegali per un peso complessivo di quasi quattro quintali. L'operazione a largo raggio continuerà nei prossimi giorni.